Signore e signori, buonasera, benvenuti a questa particolare, eccezionale iniziativa che abbiamo realizzato, stiamo realizzando per celebrare il centenario di Pietro Paolo Paolo. Lo realizziamo all'interno del parco letterario giorno 1 marzo per poi diffonderlo proprio attraverso teleacrisi, youtube e sociali il giorno 5 marzo 1922 che è la giornata dell'anniversario della nascita di Pasolini. È una manifestazione molto articolata, intanto perché Pasolini è uno scrittore molto complesso, molto articolato, molto versatile e ricchissimo di tante attività in diversi settori. Pasolini che consideriamo uno dei maggiori intellettuali italiani, assieme soprattutto a Leonardo Ciaccia. Allora, diciamo che cedo la parola immediatamente dall'ingegnere Barone, il padrone di casa, per un saluto e per introdurre questa importante manifestazione. Prego, ingegnere Barone. In aiuto benvenuti, sarò brevissimo, benvenuti a tutti quanti quelli che frequentano in genere il caffè letterario, che è questo luogo, quelli che sono venuti per la prima volta e questo mi fa molto piacere perché sono stati attratti dall'iniziativa che, diciamo, per il nome che stiamo celebrando, che è il primo Pasolini, è molto singolare. È uno delle personalità o degli intellettuali più importanti, polietrici, che ho detto all'intervista televisiva del novecento italiano e europeo. È una delle persone che aveva tanto intuito, come anche lo stesso Ciaccia, ha detto poco fa lui, ma era quasi intuperabile nel capire il mondo che cambiava, prima ancora che stesse cambiando. E questa è la grandezza di Pasolini. L'abbiamo visto in tutte le sue manifestazioni, che vanno dalla poesia alla letteratura, al teatro, soprattutto al cinema e tante altre iniziative, tante altre partecipazioni e espressioni che ha avuto. Io ricordo da ragazzo quella sera terribile in cui Pierpaolo Pasolini purtroppo ha perso la vita, succube di questa vicenda terribile, che ci ha lasciato poveri, però ci ha lasciato ricchi per quello che già lui aveva fatto e che abbiamo visto nelle sue manifestazioni culturali ed espressive. Grazie di tutto per essere intervenuti e alla prossima, ma comunque prima subostiamoci questa. Grazie mille. Dopo precisare che questa iniziativa fa parte di un progetto che io, l'ingegnere Barone, conduciamo come direttori culturali e artistici di questa rassegna e teatro. Abbiamo già realizzato la prima manifestazione, il centenario di Verga, l'abbiamo realizzato online perché il 27 gennaio eravamo sotto pericolo Covid e quindi abbiamo realizzato online con l'intervento di moltissimi artisti che hanno anche partecipato con delle proprie produzioni poetiche ispirate all'opera di Verga e sono arrivati non solo dalla Sicilia ma anche dal nord Italia, dalla Germania, tantissimi artisti. Questo è il secondo appuntamento, lo facciamo in diretta a teatro, come faremo gli altri appuntamenti nell'accorso del 2022. Il teatro 20, infatti, ha una caratteristica specifica. Realizzerà manifestazioni in occasione di grandi anniversari o di grandi ricorrenze storiche, dedicati ai grandi scrittori, ai grandi poeti ma anche alle grandi ricorrenze storiche. Il secondo appuntamento dunque compie Paolo Pasolini. Ho invitato tanti specialisti di ogni settore del cinema, della narrativa, del rapporto con Pirandello, con il rapporto con Sciasi, purtroppo non potremmo realizzare questa sera perché dottor Bellavira ha avuto, doveva realizzare appunto un video su Pirandello e su Pasolini e Sciasi, è stato male, l'ha potuto completare, lo completeremo per Teleagrassi e per la diffusione televisiva in YouTube e comunque in esoggialle. Bene, allora abbiamo oggi, ho invitato moltissimi specialisti che vedremo sia in video sia qui in testimonianza diretta. La programmazione prevede circa un'ora di attività e un tempo proprio televisivo, un'ora, un'ora e un'ora e un'ora. Allora, con Pasolini, anniversario centenario della nascita di Pasolini, anniversario della nascita di Pasolini. Allora, per Paolo Pasolini è l'anniversario della nascita, nell'articolazione della grande attività di Pasolini, nella narrativa, nel cinema, nella saggistica e nella poesia. In vari aspetti, uno scrittore molto, come dire, ricco di interessi, profondamente impegnato nella vita sociale, politica, scrittore, giornalista, una presenza importantissima nella cultura italiana. Anche un grande polemista, come avremo modo di vedere lungo il percorso della serata. Iniziamo immediatamente, così, stringiamo i tempi, con una bella testimonianza su Pasolini e il cinema. Pasolini fu molto legato all'attività cinematografica. Ha realizzato moltissimi film di diverso genere, dalla sorta di neuralismo epico dei primi film e dei primi romanzi, come Una vita violenta, o a Cattone, o Mamma a Roma, dove c'è una sorta di neuralismo epico. Però non voglio anticipare perché ho chiesto a Benamino Biondi, che è proprio uno studioso di cinema, di realizzare un breve video che illustri l'attività cinematografica di per Paolo Pasolini. Ringrazio intanto, ed è importante, ringrazio intanto il mio amico Giuseppe Adamo, che è presidente del Circo del Medocleo, con cui realizzo la stagione di teatro da camera. E questo è importante perché dimostra una sorta di circolo virtuoso tra gli operatori culturali. Dunque, il Circo del Medocleo, il Parco Lettario del Barone, le attività del Pirandello Festival, i nostri opinionisti e specialisti, insomma, un mondo attorno a queste nostre iniziative, il mondo dei migliori del nostro territorio. Migliore, anche se ne sono altri, voglio dire, di grande qualità, ma noi ce lo sentiamo come mondo migliore. Allora, velocemente seguiamo il primo insert di Benamino Biondi, Pasolini e il cinema. Il cinema di Pierpaolo Pasolini prende le mosse quando lo scrittore ha già circa 40 anni di età. In realtà questa carriera era stata intrapresa negli anni di maggiore povertà di Pasolini, quando dal Friuli si era trasferito a Roma, lavorando come generico per Cinecittà. Di fatti comparirà in alcune brevissime parti, in alcune pellicole di quegli anni, tra cui anche un bel film di Carlo Lizzani. Successivamente prende vita un'attività di sceneggiatura che ha le sue ragioni e la sua sostanza nella vita delle borgate romane, che Pasolini stava indagando. Sono gli anni nei quali il poeta Friulano ha già dato alle stampe il suo libro di poesie più importante, mi riferisco alle ceneri di Gramsci e nei quali prende forma anche la sua narrativa dei ragazzi di vita. In questo senso le sceneggiature proprio che lui farà per alcuni grandi registi italiani, tra cui Mauro Bolognini, peraltro con il quale aveva lavorato anche per la sceneggiatura del film Il bell'Antonio con Marcello Mastroianni tratto dallo straordinario romanzo di Vitaliano Brancati. Grazie ad opere come La notte brava che Pasolini sceneggia, prende avvio l'idea di dedicarsi in prima persona al cinema, cioè di essere quello che viene definito autore totale, quindi autore del soggetto, della sceneggiatura e della regia. Il primo film di Pasolini per certi aspetti è probabilmente l'opera più importante che lui ha fatto e di tutta la sua filmografia è certamente uno dei film più straordinari. Mi riferisco ad Accattone, interpretato da uno straordinario Sergio Citti che fa le parti di un borgataro e Citti era realmente un borgataro. È probabilmente il film che meglio interpreta i sentimenti poetici, esistenziali, letterari e direi anche religiosi di Pasolini. Dico religiosi con riferimento anche alla bellissima musica di Bach utilizzata nelle sequenze più violente del film. Da questa pellicola prende avvio poi un approfondimento ulteriore delle ragioni dei poveri borgatari romani, gente umile, gente semplice che evidentemente a Pasolini ricordavano forse anche i suoi antichi contadini del Friuli Venezia Giulia. In questa grande città, in questa grande capitale papalina, burocratica eppure intorno, vegliate dalla cupola di San Pietro, in qualche modo ci sono questi poveracci che lui indaga con un grande sguardo poetico. Chi sono i riferimenti del primo cinema di Pasolini? Certamente il grande neorealismo italiano, certamente Rossellini, certamente alcune cose di De Sica, per certi aspetti anche Pietro Germi con cui Pasolini avrà un rapporto conflittuale, sarà critico di alcuni suoi film, ma ne assume comunque alcuni aspetti dello stile e della forma. Ma ci sono anche altri elementi che possono essere richiamati, probabilmente elementi ancora più antichi con riferimento ai grandi classici del cinema mondiale. Uno per tutti è certamente Karl Theodor Dreyer, il grande regista danese, autore di un film straordinario come Die Sire, che per Pasolini è un grande esempio di cinema, soprattutto per il suo approccio frontale, per l'approccio frontale della macchina da presa. La caratteristica di Pasolini nei suoi film è sempre questa frontalità rispetto ai suoi personaggi presi in campo e contro campo. Ha un approccio proprio immediato nei confronti dei volti e dei suoi protagonisti che sono spesso appunto recuperati fra attori non professionisti. Uno di questi poi negli anni successivi sarà peraltro proprio Ninetto Davoli, con cui ci sarà un lungo rapporto personale e professionale. Con Mamma Roma, che è il secondo film, prosegue proprio l'attività nel cinema di Pasolini, che già aveva ammietuto grandi successi. Mamma Roma è un film probabilmente minore rispetto a Catone, ma si vanta della straordinaria interpretazione di Anna Magnani. Raggiungendo poi ulteriore successo con un film straordinario, un cortometraggio, La ricotta, interpretato da Orson Welles. Il film che però subisce gli strali della censura per la rappresentazione che era stata considerata una forma di vilipendio della religione cattolica e la storia di un poveraccio, di un generico di cinecittà, di nome Stracci, che deve assumere la parte di uno dei ladroni appunto in una rappresentazione cristologica e quindi morirà dopo una scorpacciata di ricotta che farà poco prima di assumere le parti, le vesti d'attore. È un film che dialoga in maniera straordinariamente intensa e significativa con il grande cinema di quegli anni, ma anche tentando un discorso estremamente ardito sulla religione e anche sulle vicende politiche che in quegli anni in Italia cominciavano anche ad assumere una forma meno meno sfumata. Sono anche gli anni del miracolo economico e quindi di una serie di ripensamenti di quella che poi in fondo sarà la rivoluzione antropologica preconizzata da Pasolini e su cui tanto lui poi interverrà negli anni 70 con gli articoli degli scritti corsari che appariranno sul Corriere della Sera. Un altro film certamente che rappresenta uno spartiacque dell'opera Pasoliniana e Uccellaccio Uccellini. Qui il discorso politico si fa ancora più presente. È un film interpretato da Totò e Ninetto Davoli e devo dire che è anche una pellicola rilevante perché riutilizza, rifunzionalizza Totò all'interno del cinema serio. Totò che era stato, aveva grande successo di pubblico, ma era bistrattato dalla critica e in qualche maniera si dimostra con Pasolini anche grande attore. Purtroppo sarà questo uno dei suoi ultimi film e lo stesso Pasolini lo riutilizzerà in un'altra pellicola probabilmente ancora più bella di Uccellaccio Uccellini che è il piccolo corto Che cosa sono le nuvole. Introdotto e interpretato da Domenico Modugno che canta una bellissima canzone proprio sul testo di Pasolini e sarà sostanzialmente l'ultima interpretazione di Totò a fianco anche di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Quindi davvero un'opera straordinaria, una rilettura shakespeariana con questi protagonisti che poi gettati via, sono delle marionette che saranno gettati via dal Monnezzaro che è Domenico Modugno e per la prima volta nella loro vita vedranno la bellezza delle nuvole. Lì comincia il momento probabilmente più difficile del cinema pasoliniano, quello che viene appunto definito cinema simbolico. Mi riferisco a due pellicole straordinarie, Teorema e Porcile. Porcile è una pellicola fin troppo ermetica e probabilmente anche di difficile decodificazione per il pubblico. Teorema è invece un film anch'esso che ha dei fortissimi rimandi cristologici perché è la storia di un ragazzo sostanzialmente senza nome che giunge in una famiglia possedendo tutti i familiari e destrutturando poi le dinamiche e la logica borghese di questa famiglia di industriali con esiti per certi aspetti tragici e terrificanti. Esaurito questo momento del cinema simbolico si passa invece ad una rilettura del mito greco con due opere anch'esse straordinarie. Mi riferisco a Medea ed Edipo Re ed è una rilettura nuova di paesaggi. Pasolini si sposta sempre più verso l'Africa alla ricerca diciamo di territori inesplorati, giunge in Cappadocia e quindi in Turchia per girare questi film interpretati da attori straordinari, una per tutti Maria Callas in Medea che sembra davvero nata per questo ruolo e quindi tenta una rilettura del mito però cercando al contempo di filtrarlo attraverso la contemporaneità, cioè di leggere quali possono essere in fondo nel tempo presente le opportunità appunto di attualizzazione del mito, ricavandone diciamo dei significati riposti che sono peraltro stati anche analizzati ampiamente dalla critica con grande successo internazionale di queste pellicoli. Immediatamente dopo giunge invece la cosiddetta trilogia della vita, i racconti il Decameron, i racconti di Canterbury e il fiore delle millonanotte. Sono dei film che attingono alla tradizione letteraria e classiche e quindi a Giovanni Boccaccio, alle millonanotte e ai racconti di Canterbury di Gioiser e rappresentano una sessualità gioiosa, liberata che non era mai stata presente nel cinema italiano anche con la rappresentazione non soltanto del nudo femminile ma tra i primi tentativi di rappresentazione del nudo integrale maschile. Film che avranno grande successo in Italia e all'estero e che saranno poi anche, faranno nascere addirittura un filone di film ovviamente di bassissimo livello italiano, più che altro diciamo filmetti erotici per palati poco raffinati, un cinema, un genere che sarà proprio chiamato Decamerotico proprio per questo, con riferimento appunto a queste opere di Pasolini. La più bella di tutte certamente a mio avviso è proprio il Decameron che è il film in questo senso più perfetto proprio per la rappresentazione di una sessualità che sebbene antica proveniente da testi classici evidentemente per Pasolini doveva essere molto più liberata e felice di quella che invece si stava vivendo tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. Alla trilogia della vita Pasolini poi contrappone una trilogia della morte, trilogia della morte che però non vedrà mai compimento perché riuscirà a girare una sola pellicola tragica, terrificante, uno dei film più tristi, più abberranti per certi aspetti che siano mai stati girati sul potere del capitalismo e sul potere anche di soggiogazione dei corpi. Mi riferisco a Solo le 120 giornate di Sodoma, tratto da un famoso romanzo del Marchese de Sad ambientato durante i tempi del fascismo quindi tentando un parallelismo per certi aspetti in realtà anche molto forzato fra l'opera del grande Marchese de Sad e la storia italiana. È un film di grande poesia ed è un film con una grande presenza di nudi con un effetto però totalmente antierotico e direi persino distanziante. L'idea del corpo come sopraffazione, l'idea di una fazione che ne sopraffa un'altra e quindi è un film di straordinaria modernità perché credo che richiami anche in filigrana tanti accadimenti del nostro tempo presente. È un film per certi aspetti assolutamente tragico. Dal punto di vista formale, insieme ad Accattone, credo che sia la migliore riuscita cinematografica di Pasolini ed è un film al quale lui teneva molto proprio perché avrebbe dovuto rappresentare in qualche maniera non il sesso come dovrebbe essere ma il sesso com'è nella società italiana di quegli anni. Siamo nel 1971. che avrei dimenticato i testi e gli altri scritti, lo salone di proporci la canzone che è alla base del film come cosa dicono le nuvole. È un film ad episodi di tanti registi in cui c'è anche questo episodio di Pasolini tra le grandi attività di scrittori, giornalisti, intellettuali, polimisti. Le nuvole sono. Va bene, sì, allora quello. Ha scritto anche tanti testi di canzoni leggere per i suoi film. Una di queste è la musicata e cantata Domenico Modugno. Io ho chiesto al grande cantastore non lo usa l'amore di cantarla. Perché? Non lo usa l'amore. Non lo puoi venire. Non lo usa l'amore. Ha iniziato la sua attività non da giovane, non come cantatore che è ormai di fama nazionale per l'episodio di Pasolini. Ci sei visto? Come no. Prego, allora un applauso a Lolo per questo posto di appartamento. Che io possa essere dannato Se non ti amo E se così non fosse Non capirei più niente Tutto Tutto Il nostro amore Lo soffia il cielo Lo soffia il cielo Così Che io L'elba E' 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 ah ah tu non fossi mai nata tutto il mio folle amore lo soffia il cielo lo soffia il cielo così il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso perciò io ti dico finché sorriderò tu non sarai perduta ma queste son parole che non si dicono allora il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso perciò io ti dico finché sorriderò tu non sarai perduta ma queste son parole che non ho mai sentito che un cuore un cuore affranto si cura si è udito tutto tutto il mio folle amore lo soffia il cielo lo soffia il cielo così tutto il mio folle amore lo soffia il cielo lo soffia il cielo così bravo bravissimo 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 complimenti sia per la cantora che per la diseguita sia per questa bellissima voce che ha professore grazie va bene ora vai andando all'altra moltissimo poesia ha scritto una poesia bellissima straziante è una poesia supplica a mia madre è una poesia bellissima e io ho chiesto alla vostra grande Lera Rocco di farcelo maggio leggendo proprio supplica a mia madre di Pasolini accogliamo con un applauso grazie la poesia è veramente di grande intensità e così attraversiamo il mondo di Pasolini dal cinema dalla pratica alla poesia alla musica alla musica e alla musica classe che fra poco ascolteremo che fu base di alcuni film importanti come a cattone che citava proprio benemiglio bionti in cui Pasolini utilizza molto la musica di Bach peraltro Pasolini usava spesso musiche diciamo classiche anche sintoniche anche da Verdi da Rivaldi da Mozart appassionato soprattutto però di Bach sulla qualità composita di Bach tentò pure di scrivere un saggio e poi lascio che indirruppe allora lì a Rocco prego mi sentite? il 6 novembre del 1975 nella chiesa di Santa Croce a Casarsa della Delizia vengono celebrati i funerali di Pierpaolo Pasolini ad accoglierlo nel cuore dell'umile Friuli un altro poeta friulano grandissimo David Maria Turoldo che dedica in quell'occasione un doloroso scritto alla madre di Pasolini Susanna Colizzi straziata dal dolore un testo intimo doloroso scomodo come sapeva esserlo nella sua autenticità padre Turoldo nel testo padre Turoldo rivolgendosi alla madre le dice che era lei la sua vera patria il luogo della sua pace il solo asilo sicuro e alla madre di Pasolini e alla madre Pasolini ha dedicato dei versi fortissimi versi che io leggerò e naturalmente un'attrice quando legge poesia interpreta da una sua interpretazione non so se la mia interpretazione vi piacerà per questo veramente vorrei siccome sono bellissime bellissimi questi versi questa supplica alla madre io vi chiedo poi a casa di rileggerla nell'intimo della vostra stanza da soli per vedere se questa mia interpretazione ha colto il dolore e l'amore di un uomo è difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco somiglio tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre prima d'ogni altro amore per questo devo dirti ciò che è orrendo conoscere è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia sei insostituibile per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data e non voglio essere solo ho un'infinita fame d'amore dell'amore di corpi senza anima perché l'anima è in te sei tu ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto irrimediabile di un impegno immenso era l'unico modo per sentire la vita l'unica tinta l'unica forma ora è finita sopravviviamo ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione ti supplico ah ti supplico non voler morire sono qui solo con te in un futuro aprile il 25 marzo mi pare la tua rappresentazione a circo in Beloglio si tratta di una rappresentazione spettacolare speciale perché noi lo ricordiamo e non ce lo ricordiamo ma io parlo del testo non parlo della tua interpretazione il testo è proprio eccezionale il testo è straordinario è la voce umana di Jean Coquetot un monologo famosissimo a livello internazionale uno dei più importanti monologhi poi che sono stati e sono stati interpretati da Jean Moreau da Caterine Ebono che è una grande esattrice internazionale lì a Rocco il giorno 25 prepara una messa in scena proprio su questo lungo monologo interessante che è un'operazione teatro l'avevo ricordo il 25 marzo il 25 marzo il 25 marzo dunque dipendiamo con la stagione teatro da camera con questo eccezionale spettacolo di Elia Rocco e a proposito delle la canzone come le nuvole voglio dire che il professore Emilio l'ho accolto in questo episodio dal film In Capizio l'Italiana un rapporto tra Pasolini e Pirandello a parte altri rapporti allora gli ho chiesto di preparare una breve videotestemonianza appunto su Pasolini e Pirandello avremmo dovuto poi preparare e proporre Pasolini e Sciacca ma Salvatore Bellavie con uno specialista non ha avuto la possibilità per il problema di realizzarlo intanto vediamo Giuseppe Padano vediamo Pasolini e Pirandello volevo però sottolineare l'importanza anche della presenza del maestro filmmaker Diego Romeo perché nei piglio lui interviene con delle sottolineature degli elementi di complemento che accompagnano il racconto o la esposizione dei nostri specialisti oltre che per l'attività che fa in favore le nostre attività culturali allora Giuseppe spegniamo la luce e vediamo da conne Stefano Migliotto Pasolini e Pirandello il rapporto tra Pasolini e il mondo Pirandello e Pasolini ma giusto per dare uno spunto di riflessione e di approfondimento il dialetto entrambi che pongono molta attenzione al dialetto Pirandello si era laureato a Bonne con una testa sulla parata di Sergenti e Pasolini lavorato in lettere aveva coltivato sempre gli studi filologici con grande passione entrambi scrivono alcuni testi in dialetto in siciliano Pirandello addirittura nella parata di Sergenti scrive lì o là e Pasolini utilizza il fiulano per le sue poesie a Casarsa indipendentemente dalla loro teoresi linguistica hanno profondo il senso delle radici e siamo già al teatro entrambi sono dei rivoluzionari del teatro Pirandello col suo teatro ha sconvolto la scena mondiale nelle idee nei contenuti e nella scenotecnica Pasolini contro il teatro borghese della cacchiere del gesto e dell'urlo col suo manifesto per un nuovo teatro nel 1968 oppone il teatro di parola che fatta giustizia di tutto l'apparato scenico tradizionale naturalistico arrivi direttamente al popolo e alla classe operaia scrive appositamente per il teatro di parola tra il 1965 e il 1966 dei testi teatrali Calderon Pilade Porcile Orgea Bestia da stile e Affobolazione che è forse il suo testo più noto e ancora il cinema la lezione cinematografica di Pirandello arriva a Pasolini che fa su e porta alle estreme conseguenze l'intuizione pirandelliana per la quale del cinema in quanto arte dello spettacolo necessita di una nuova drammaturgia alla condizione esistenziale dell'uomo moderno deve corrispondere un linguaggio disunito allusivo e spagiato come direbbe Pirandello allora non più un racconto lineare piano prosastico ma digressivo eccentrico e che vada al di là della normale espressività e siamo qui allora ai dispositivi umanistici di Pirandelliane siamo qui veramente ai moduli della poetica umoristica pirandelliana e a proposito vorrei porre alla vostra attenzione un episodio del film Capriccio all'italiana del 1967 che è che cosa sono le nuvole è firmato appunto da Pierpaolo Pasolini perché vi ritrovo tanto Pirandello gli interpreti sono interpreti di eccezione Domenico Modugno Franco Franchi Ciccio Ingrassia Laura Betti Totò e Nenetto Davoli e vi ritrovo soprattutto lo stupore nella scena finale di Ciaula quando uscito dalla meniera scopre la luna e così il personaggio di Nenetto Davoli quanto alla domanda guardando il cielo alla domanda che cosa sono quelle e Totò risponde le nuvole lui dice era una meravigliosa grazia della natura nel film a cattone Pasolini dicevo usa le musiche di Pacchi in particolare la passione di Mattaus e poi un'altra musica in altri film sempre di Pacchi la sonata siciliana ho chiesto allora facciamo un esperimento e con il maestro Domenico Mannella direttore del coro che io invito spessissimo nella nostra stagione in teatro la camera ho invitato per eseguire le musiche di Pacchi pensate alla misalmonica perché il maestro Mannella usava la misalmonica lui stesso con una sorta di oltre a canne quindi segniamo questa trasposizione maestro Mannella ci vuole illustrare che tipo di trasposizione lì ha fatto brevemente direi come al solito sono stato colto di sorpresa dal professore Gazziano quando mi invita mi dice ah vieni senti mi sembra una cosa così puoi venire ah no devi venire per forza lo leggi ma c'è piano forte no no sai a me piace moltissimo la fisica monica è vero e a me piacerebbe sentire dovrei inserire in questa serata due brani tratti dai film di Pasolini all'accartone un brano tratto che praticamente sono tutte e due di Bach uno è un corale per organo l'altro è una siciliana un brano per pianoforte tipico che si chiama siciliana è una forma un po' come la tarantella come il tango come la giga come la passacaglia c'era tra il settecento un brano musicale una forma musicale che si chiamava siciliana trascurata ora non la usa più nessuno non la usa più nessuno Bach non dice Bach pur non essendo mai uscito dalla sua Germania aveva già preso i contatti con quest'altra musica e aveva composto pure una siciliana Pasolini esperta amatore di Bach e dice il professore Caziano che fa? dice però tu le devi suonare con la disarmonica ecco la faccia non esistono le partiture ho preparato le trascrizioni io appositamente per il professore Caziano per la serata e le eseguirò questa sera per voi datemi un solo minuto di tempo per prepararmi Prego Maestro Mannello un applauso per l'amore 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 Canola bravo grazie assolutamente grazie e lo facciamo dopo la sigiliana e conclusione la sigiliana perfetto grazie comunque per questa dell'interpretazione originalissima complemente maestro ci vediamo dopo allora è un altro degli aspetti fondamentali che possono poter vedere bene è l'aspetto diciamo pubbliciscono come giornalista polemista fortissimo e gli scrive una una composizione la torta di odo e la poesia più che altro una poesia in forma di prosa avversi nell'inoccasione della grande contestazione studentesca del 68 e famosa resta la battaglia degli studenti d'architettura a villa giulia come nel 68 contro la polizia naturalmente tutti si schierano a favore dei giovani che fanno queste contestazioni per la liberazione un certo mondo sociale un certo mondo didattico scolastico universitario come tutti saprete ma soli riscrive invece una lettera in difesa della figura dei poliziotti ho chiesto a dentro il fantasso scrittore di prestigio che si raggiunge da sambuca si raggiunge da buca di farci una lettura con delle piccole riflessioni di questo importante testo di pasolini che creò tantissimo polemiche però è restato nella storia della nostra società Enzo Enzo Rantazzo ecco accogliamo anche un applauso naturalmente la mascherina ecco allora Enzo Rantazzo scrittore professore di lettere prese per lungo costo ho la fortuna di avere per amico questo Nino Gazziano che se non ci fosse Nino Gazziano è suo cugino Mario Gazziano vabbè ma dopo il pirandello Pasolini che se non ci fosse però bisognerebbe inventarlo perché io così ho 30 secondi di ringraziamento perché mi ha dato stasera la possibilità di rivedere tantissimi amici di Agrigento che non vedevo da diverso tempo e di conoscere anche questa realtà in movimento agrigentina che degnamente è erede di pirandello non poteva essere diversamente e quest'altra invenzione geniale di accostare Pirandello a Pasolini e Pasolini a Pirandello che senza dubbio hanno intanto qualcosa in comune che sono io dico come Einstein sono ancora tutti da capire, da interpretare sento che anche di pirandello noi pensiamo di avere capito tutto ma quando poi ci pare che abbiamo capito tutto leggiamo un'altra pagina e così non è il compito difficile che mi assegna stasera l'amico Gazziano difficile perché innanzitutto questa è una cosa che potrebbe occupare una serata invece dobbiamo farla in cinque minuti ed è giusto farla in cinque minuti e questo aspetto poco noto poco consono anche a quello che abbiamo già visto di Pasolini e questa sua polemica molto forte con il 68 una polemica che è basata molto sul suo comunismo forte intenso che fa parte di quella sua cultura di attenzione alle periferie, agli ambienti suburbani cosicché chi mi parla è un 68, io ho fatto il 68 quindi non sono un prevenuto ho fatto l'occupazione del primo comitato tecnico di occupazione della facoltà di lettere a Palermo nel 68 però una matricola e quindi vivo un'esperienza attraverso questa lettera poesia che ci presenta Pasolini e che stasera attenzioneremo brevemente attraverso uno sguardo inedito cos'è il 68 oggi per noi? molti di voi io vi guardo così anagraficamente o sono stati dentro il 68 o sono eredi appena posteriori del 68 ma la generazione che noi abbiamo vissuto e quella immediatamente successiva è una generazione che nel 68 ha visto la fine del principio di autorità la rottura degli schemi convenzionali, la libertà della scuola, la possibilità di esprimersi liberamente invece Pasolini coglie un aspetto veramente particolare di questo suo modo di vedere la realtà in questa manifestazione particolarmente lui vede i poliziotti e li vede nella loro realtà di straccioni, di persone malvestite di figli di quel proletariato a cui lui ispira buona parte della sua militanza politica e vede invece questi ragazzi studenti che sono un po' i figli della borghesia quella borghesia, la critica alla borghesia è uno degli elementi, l'abbiamo già visto che accomuna Pirantello a Pasolini al costume borghese, all'epocrisia borghese quindi lui dice in modo forte, violento, avete facce di figli di papà vi odio come i vostri papà buona razza non mente, avete lo stesso occhio cattivo siete paveri, incerti, disperati e non fa nessuno sconto anche alla posizione che lui prende dice io simpatizzavo con i poliziotti perché invece i poliziotti sono figli di poveri dirà più avanti poi persone che lavorano a 40.000 lire al mese insomma vestiti come pagliacci di cui io quasi ho pietà per la loro condizione esistenziale che mentre io riconosco come una forza per Pasolini la polizia rimaneva una forza da lottare tutto sommato, però non posso condividere questo scontro che voi portate avanti perché questo scontro, questa è la sottile distinzione che lui fa attraverso quell'attenzione alle parole che lui ha sempre è uno scontro che differenzia la rivoluzione che io ho in mente la rivoluzione comunista che lui dice chiaramente è l'unica rivoluzione in cui io credo dalla lotta civile, dalla guerra civile, dalla guerra civile che voi portate avanti devo dire che più avanti poi questo suscitò una grande polemica lui fu fortemente attaccato ma c'era la notazione che accumunava anche Pasolini e Asciascia i personaggi intellettuali scomodi dicono sempre delle cose scomode per cui vengono facilmente attaccati quindi lui facilmente attaccato poi tornò a riflettere anche su questi versi trovando anche delle incollature con la posizione politica che lui assumeva e in qualche modo spiegando meglio questa sua posizione presa in quel caso dice la mia in fondo era una provocazione talvolta ironica perché attraverso questa mia provocazione ironica intendevo mettere in evidenza il fatto che dentro la cultura comunista di quegli anni dentro i quadri comunisti di quegli anni anche lì Pasolini non sempre era molto tenero con la struttura burocratica del PC chiaramente c'era un'ignoranza dei certi fondamenti del marchesismo e questi stessi militanti poi erano militanti che non conoscevano bene il russo cioè lui dice non conoscevano bene neanche i testi sacri del marchesismo e quindi la critica molto forte è quella che tutto sommato poi Pasolini porterà sempre avanti una critica fatta attraverso questa foto particolare alla società borghese in cui il giudizio di Pasolini fa un po' lo scalpore e il suo brano in fondo servì a fare riflettere moltissimo quelli che erano gli intellettuali contemporanei del tempo e quelli che erano anche i pseudogrammisciani del tempo che in realtà dimenticavano la differenza fondamentale che nel marchesismo e in gammi ci scena tra sommossa rivolta, violenza e rivoluzione che implicava invece un profondo cambiamento allora io ho riletto questo brano molto rapidamente secondo le indicazioni del nostro grande organizzatore perché ci vuole anche mettere assieme questi aspetti molta profondità culturale insomma in modo così sintetico ti ringrazio di avermi fatto rileggere un brano che io avevo così visto qualche volta ma senza grande attenzione e che ritengo invece molto importante per questa visione complessiva dell'intellettuale Pasolini e della sua libertà di pensiero che continua a fare onore e a cui tutti noi indipendentemente dalle posizioni intellettuali o politiche particolari dobbiamo dare giusta testimonianza perché Pasolini ancora una volta dimostra di essere di non associarsi ai cori scontati ma di essere un intellettuale estremamente libero e capace di incidere fondamentalmente nel dibattito culturale di quegli anni e anche successivo ho finito e vi ringrazio grazie grazie e questo è bellissimo questo è bellissimo questa storia lo abbreviamo naturalmente ma no insomma lo vediamo lei sa quando deve togliere cavallo di Napoleone Il soldato è Napoleone, prego. Aspetta che mi metto il cioccoletto, questo lo devo vedere anche se no non riesco a capire niente, aggiungiamo l'occhiale, scusatemi. Addio, addio Casarsa, vado via per il mondo, lascio il padre e la madre, vado via con Napoleone. Addio, vecchio paese, addio, giovani amici, Napoleone chiama la meglio gioventù. Quando si alza il sole al primo chiaro del giorno, Vincenzo col suo cavallo di nascosto se n'è partito. Correva lungo il tagliamento e quando suona a mezzodì, Vincenzo si presenta a Napoleone. Come furono passati sette mesi, sono in mezzo al ghiaccio, a conquistare la Russia, feri perduti e abbandonati. Come furono passati sette giorni, in mezzo al gelo, nella grande Polonia, feriti e prigionieri. Spaventato il cavallo, fuggiva per la neve, e sopra aveva Vincenzo, che ferito delirava. Gridava, fermati cavallo, fermati, fermati ti prego, che ora che metti di via un mannello di pieno. Il cavallo si ferma, con l'occhio pieto e buono, guarda il suo padrone, che ormai muore di freddo. Vincenzo gli squaccia il ventre, con la sua baionetta, e dentro vi ripara la vita che gli avanza. Susanna, con suo padre, passa di lì sul carro, e vede il giovincello, nei pisceri del cavallo. Salviamolo, padre mio, questo povero ragazzo, che muore nella colonia, caduto e abbandonato. Chi siete bel soldato, venuto da lontano, sono con l'usse Vincenzo, un giovane italiano. E voglio portarti via, appena sarò guarito, perché, perché nel petto, con gli occhi, mi hai ferito. No, che non vengo via, perché mi sposo questa Pasqua. No, no, che non vengo via, perché a Pasqua sarò già morta. La domenica degli olivi, piangevano tutte e due, e l'uno e l'altro a piangere, si vedevano da lontano. Il lunedì santo, si vedono nell'orto, e si danno un bacio, come due colombi. Il giovedì santo, che nascono rose e fiori, scappano nella Polonia, per saziare l'amore. La domenica di Pasqua, che tutto il mondo canta, arrivano innamorati, in terra di Francia. Bravo, non è, grazie. Il verso di figlio, non lo vuoi. È diventato più difficile. Accomati i cinque minuti, così poi per il finale ti richiamo. Va bene. Dedichiamo la fase conclusiva di questo incontro alla narrativa di Pasolini, dai suoi romanzi, ragazzi di vita del 55, fino all'ultimo romanzo, non compiuto Petro. Petro, è un gesto a professore Zino Pecoraro, uno dei saggisti più, vediamo, specialistici della nostra contemporaneità, di preparare questo breve incerti televisivo, che poi andremo attraverso la televisione, questa sulla narrativa di Pasolini, che è uno degli elementi fondamentali dell'opera per Paolo Pasolini. Prima di cominciare a parlare della narrativa per Paolo Pasolini, vorrei leggere in un certo senso come illustrazione indiretta della sua figura, della sua importanza, alcuni versi che lui scrisse e che riguardavano proprio la sua personalità, il suo modo di essere. Dice così Pasolini Alto, leggero è il mio sentire, quale d'un ragazzo che impuro in sé il suo male, il suo ardore ti è inchiuso e sconfinare sa, puro nel mondo. In questi pochi versi c'è tanto della storia personale e del ruolo culturale che per Paolo Pasolini ha svolto nella società italiana degli anni che vanno dagli anni Sessanta alla sua morte. E questi 15 anni e forse più sono stati contrassegnati forsemente dalla forza delle sue idee e della sua partecipazione alle vicende della storia italiana. Però questo è un discorso che riguarda in parte la narrativa. La narrativa di Pasolini, la cronologia della narrativa di Pasolini comprende, tra i testi più significativi, Ragazzi di vita che è del 1955, Una vita violenta del 1959 a cui venne assegnato il premio Crotone proprio nel momento della sua uscita, Il sogno di una cosa del 1962, Ali dagli occhi azzurri del 1965, Teorema del 1968 e Petrolio che è uscito postumo nel 1992 che rappresenta proprio il culmine finale di tutto l'insieme delle strade artistiche percorse da Pasolini nella sua esperienza di scrittore, di autore di cinema e di saggista. Uno dei primi punti di riferimento per esaminare la narrativa per Paolo Pasolini è il rapporto tra, nei primi due testi almeno, cioè Ragazzi di vita e Una vita violenta, il rapporto che si istituisce tra Casarsa e Roma. Casarsa è in un certo senso un luogo del cuore di Pasolini, non solo per ragioni come dire legate alla sua vita ma anche per un aspetto riguardante la lingua perché è proprio a Casarsa che lui apprende il linguaggio e il dialetto di quel luogo e viene a contatto con i contadini, i proletari di Casarsa stessa che hanno una caratteristica diversa rispetto a quella che poi avranno i borgatari di Roma. La caratteristica è quella che questi contadini e questi operatori di Casarsa hanno un progetto politico da realizzare, cioè lottano perché si realizzi un'idea nuova che si possa concretizzare dopo la vicenda della resistenza. Quindi per Casarsa, per delineare il mondo di Casarsa, il dialetto è innato in Pasolini, mentre per quanto riguarda la lingua, cioè il gergo delle borgate di Roma, viene applicato appunto lo studio filologico. Pasolini tra le altre cose era un acuto studioso della lingua. Nell'analisi nelle ragazze di vita e una vita violenta vi è appunto questo elemento del rapporto tra dialetto e lingua che riguarda il narratore e i dialoghi e il dialetto gergo che riguarda appunto i borgatari. Qual è l'elemento centrale di questa vicenda che riguarda sia i ragazzi di vita, il primo testo, sia una vita violenta? È un riferimento alla resistenza. La resistenza inconclusa è la mancata rivoluzione. Mentre questa pagina della resistenza che riesce a liberare l'Italia dal fascismo e che ha un progetto di democrazia, di partecipazione da realizzare che veniva anche codificata nella stessa Costituzione, invece nei ragazzi di vita e tra l'altro libro una vita violenta vi è invece in questo sottoproletariato che si trova delineato in questi due romanzi vi è appunto una protesta fino a se stessa, quasi anarchica, un compiacimento della violenza, della forzatura di tutti gli aspetti centrali della vita umana. E solo forse nel romanzo Una vita violenza vi è la delineazione di un personaggio a tutto tondo, mentre precedentemente in ragazzi di vita questo elemento non c'è perché vi è una sorta di narrazione, di riferimento corale. In Una vita violenta vi è questa figura di Tommasino che è un personaggio a tutto tondo che subisce questo processo di educazione, questo processo educativo che lo porta sulla propria pelle a uscire da un'esperienza di violenza, di crudeltà che era legata alla sua adesione al partito fascista e poi la vicinanza al comunismo. Con Teorema e soprattutto con Petrolio si allarga ulteriormente l'orizzonte sociologico e viene abbandonato da Pasolini la Roma Borgatara. In Teorema vi è la presenza dell'elemento soprannaturale che è una novità rispetto alle esperienze scrittorie precedenti ma soprattutto è interessante e importante l'ultimo romanzo che Pasolini non portò a termine. È un mega romanzo, almeno nelle intenzioni di Pierpaolo Pasolini. Lui scrisse in tutto 600 pagine, sono quelle che rimangono del romanzo però il suo progetto era di scriverne un romanzo grandioso lo definisce lui un zatiri con 2000 pagine, un romanzo di 2000 pagine che naturalmente non portò a termine date le vicende della sua morte. Un romanzo però in cui si sintetizza tutta l'esperienza, tutta la storia d'Italia almeno nelle intenzioni dell'autore tutta la storia d'Italia dagli anni 60 del boom economico fino agli anni 70 anni difficili, anni di corruzione, anni che poi sfoceranno in una situazione che porterà poi alla dissoluzione della democrazia cristiana e a mani puliti. L'esperienza narrativa di Pasolini poi viene abbandonata perché altre sono le strade che lo stesso scrittore percorre. Saranno però significative queste basi nelle esperienze successive. In conclusione concludiamo, come abbiamo detto, richiamo il maestro Mannella con la sonata di Bach. Tra l'altro avete visto questo titolo di un articolo su Bach e sui versi di Pasolini che richiamano Kurt Weill, il grande musicista di Bertolt Brecht e Kurt Weill che noi abbiamo spesse volte utilizzato e riproposto nei nostri spettacoli anche dedicate a Brecht. Allora il maestro siciliana di Bach, una sorta di talandella diceva che è il nostro maestro, di Bach così concludiamo anche con la parola di Bach. La siciliana è un brano tipico siciliano, è una forma siciliana tipica che veniva utilizzata come diceva proprio fa, tra il 600 e il 700. Però a differenza, al contrario di come viene pensata oggi la musica siciliana, che talandella, che musica, che vivacità, che energia piena, la siciliana invece è un brano malinconico, un brano sereno, un brano riflessivo, è una forma leggera, proprio così che fa pensare alle ninne nanne, è il ritmo di una ninna nanna. A origine infatti c'è molta somiglianza tra le nostre ninne nanne o tra alcuni brani lenti che ha pure inciso e registrato Rosa Balistreri, che hanno origine dal popolo siciliano, che vengono cattate dai compositori di musica del 600 e del 700 e la trasformano in una forma classica. La siciliana allora è un brano molto malinconico, leggero, non è triste, è sereno, tranquillo. Pensiamo alla ninna nanna. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.